Musica Buongiorno, eccoci al consueto appuntamento con la rubrica Femini, Salute e Benessere. Come ha già anticipato nel corso di A voi la linea, il collega, oggi abbiamo nostro gradito ospite il dottor Lucio Moss, che lavora all'ospedale di San Daniele e che recentemente è stato nominato presidente nazionale dei cardiologi sportivi. Tanto buongiorno, grazie per essere qui, è la prima volta che interviene, che partecipa alle nostre trasmissioni in questa veste. Ecco perché il dottor Moss l'avete già avuto modo di vederlo qui nei nostri studi diverse volte, anche per parlarci di Gemona. Ma oggi parliamo di questo nuovo ruolo, perché anche in questo caso il Friuli Venezia Giulia fa da capofila, porta le proprie esperienze a livello nazionale. Sì, la società italiana di cardiologia dello sport è una società scientifica che ormai risale da tanti anni fa, che ha annoverato tra i precedenti presidenti che mi hanno preceduto, dei grandi nomi della cardiologia italiana e si interessa soprattutto della parte cardiologica negli sportivi, sia per prevenire, il primo movimento è quello di prevenire la morte improvvisa nello sport, che è una cosa che sappiamo essere drammatica, purtroppo succede. Succede anche recentemente. Attraverso un aggiornamento di tutti i cardiologi, attraverso la stesura di protocolli che ogni cinque anni vengono, insieme alle altre società scientifiche, vengono rinnovati per poter dare delle regole ai cardiologi che siano conformi, queste regole, alle nuove conoscenze. In questo campo le nuove conoscenze sono, negli ultimi anni si è imparato molto, abbiamo imparato molto, tutte le cose di cardiologia dello sport di adesso, io non le ho mai studiate a scuola, sia all'università, si studiano sul campo e sono acquisizioni anche scientifiche importanti, anche abbastanza recenti. E quindi ci vuole, bisogna tenere sotto aggiornamento tutti quanti. E possiamo dire che il Friuli Venezia Giulia in questo senso è una regione all'avanguardia? Sì, è una regione all'avanguardia, sia anche perché sia per l'organizzazione di congressi in questo tema, sia per la legislazione regionale, che è stata una delle prime ad adattarsi alle indicazioni, sia perché c'è anche abbastanza controllo adesso, cosa che una volta non c'era. Ecco, però ci sono tante persone che protestano, no? Perché devono sottoporsi a tanti controlli. E non è bene protestare quando uno dice che devi sottoporti a certi controlli. La legislazione italiana è diversa da quella europea e quella americana. Noi siamo stati presi in giro, presi in giro, noi siamo stati criticati dagli americani perché dicono che spendiamo troppi soldi per fare questa prevenzione. La risposta che diamo è che in Italia... Beh, ma da che pulpito? Qui la sanità è garantita a tutti. Di là bisogna pagare tutto. Appunto. E per cui, però noi in Italia non si muore più, la prima causa di morte improvviso nello sport era la cardiopatia ipertrofica. E in America si muore di cardiopatia ipertrofica adesso come si moriva molti anni fa. In Italia ormai tutti questi soggetti vengono, la maggior parte, la stragrande maggior parte di questi soggetti vengono identificati e quindi si può fare qualcosa per prevenire la morte improvviso. Rimangono tantissime patologie che purtroppo sono molto molto difficili da tirare fuori. Io so che quando si porta il ragazzino, si porta o anche l'amatore che va a fare un controllo, il medico sportivo che fa il controllo è meticoloso. Se le regole dicono che bisogna fare un'ecografia, viene fatta un'ecografia insomma. Ma sì che poi uno anche sta più tranquillo, no? Se deve fare attività sportiva almeno non mi viene un colpo in sostanza. Da una parte forse c'è l'esagerazione di coprici da un punto di vista medico legale che va sempre evitata. Dall'altra però c'è il fatto che anche se facciamo cento ecografie ma salviamo una morte improvvisa, queste cento ecografie hanno un perché di essere fatte. E poi è sempre un controllo fatto bene insomma. Senta, mi tolga, esuliamo un attimo, parliamo sempre di eccellenze. Anche una sua ex collaboratrice ha avuto un importante riconoscimento, lo diciamo perché l'ha avuto proprio recentemente. Purtroppo si parla come siamo in Italia, ma anche in Friuli non è esente dal resto dell'Italia. Abbiamo grandi nomi che se ne vanno e se ne vanno all'estero. Io conosco i bari cardiologi giovani che sono andati all'estero. Tappeto rosso per loro, no? Più che per i soldi, per poter lavorare bene. Non essendoci la possibilità di lavorare bene, la mia collaboratrice, la dottoressa Vriz, che aveva fatto, che era stata con noi per tanti anni, avevamo messo su anche un centro di ricerca abbastanza importante. Collaboravamo con le maggiori università del mondo. A un certo punto ha deciso di fare questa scelta, di andare via, perché qua non si riusciva più a fare niente. E' andata in Arabia, in un ospedale gestito dagli americani, ed è ieri, proprio ieri, ha vinto il premio come migliore cercatrice, ed è una delle tre responsabili della ricerca negli Emirati Arabi, dove è un paese emergente, ma è un paese emergente che ha tanti soldi. Ha tanti soldi e lungimirante, soprattutto per quanto riguarda la sanità, no? E quindi fanno grossi investimenti e fanno grossi investimenti sulla ricerca. Ecco, ce ne sono tanti di esempi come questo, no? E sempre appunto... Purtroppo, sì, mi sarebbe cercato di far ritornare indietro. Senta, dottor Mosso, ritorniamo a parlare proprio di cose strettamente legate al suo ruolo. Anomalie che lei riscontra anche, no? Nel sistema anche dei controlli. Sì, le anomalie più frequenti che scatenano tutta questa serie di esami sono generalmente delle extrasistoli, che nella stragrande maggioranza dei casi sono fenomeni innocenti, che non hanno nessun significato patologico. Però la regola dice, sono benigni, non sono fenomeni che non devono preoccupare, in assenza di cardiopatia. Per cui noi dobbiamo sempre dimostrare l'assenza di cardiopatia. Siamo costretti a fare generalmente un elettrocardiogramma sotto sforzo e un'ecografia e un esame oltre, cioè un elettrocardiogramma, per 24 ore, per dimostrare che non c'è una cardiopatia sottostante. E con che frequenza questi controlli vanno fatti? Le visite vengono fatte una volta all'anno. Una volta riscontrata, però c'è da dire questo, che una volta che se noi siamo un ragazzino di 12 anni, troviamo un extrasistolo, gli facciamo l'ecografia, questa ecografia non troviamo niente, nel test d'afforzo non troviamo niente, non dobbiamo ripetere questi esami ogni anno in assenza di nuove patologie, perché abbiamo escluso quelle che sono quelle patologie congenite, che tante volte sono la causa di questa cosa. Qualche volta vengono ripetuti sempre nell'ambito di questa sicurezza. Si tratta però di esami non invasivi, quindi non sono esami che possono essere pericolosi. Rappresenta probabilmente una perdita di tempo e anche qualche volta una perdita di soldi, perché si paga il ticket. A parte il fatto che, a dire la verità, in Italia fino a 18 anni in questi soggetti non pagano il ticket, non devono pagare il ticket per queste visite. Perché ricordiamoci che una volta c'era la medicina scolastica, una volta c'era la visita di leva che permettevano di fare delle diagnosi. Adesso c'è il pediatra, per l'amor di Dio, ma non c'è più uno screening, mentre negli atleti, i soggetti che fanno sport, hanno anche il vantaggio di fare questo screening, che è una cosa utile. Ecco, il problema è che lo facciano tutti, perché questo è il problema. È legatorio per tutti, uno per fare uno sport in Italia ormai deve fare delle visite. Distinguiamo lo sport agonistico, qualsiasi gara, qualsiasi tipo, dal campionato del mondo al torneo dell'ospedale, è una gara e ci vuole l'idoneità agonistica. L'idoneità agonistica è fatta da un medico sportivo che deve fare l'elettrocardiogramma di base, l'elettrocardiogramma sotto sforzo, la spirometria e l'esame urine. E poi dà l'idoneità, questa è l'idoneità agonistica. Per i soggetti che devono andare nelle palestre, eccetera, lo sportivo della domenica fa l'idoneità non agonistica, per la quale è richiesta un elettrocardiogramma. Basta un elettrocardiogramma, non occorre, ripeto, ogni anno in assenza di nuove patologie. Basta aver fatto una volta un elettrocardiogramma e il medico di medicina generale o un medico sportivo fanno il certificato di idoneità agonistica. L'ultima possibilità, uno che va in palestra due volte per settimana, così per divertimento, la palestra vuole coprirci da un punto di vista medico-legale, perché ormai siamo oberati dal problema medico-legale, è l'attività ludico-motoria e quella può farla qualsiasi medico. Un certificato per l'attività cosiddetta ludico-motoria, che non è agonistica, che non è agonistica. Ah, adesso quindi per l'attività ludico-motoria? L'attività ludico-motoria ci vuole sempre un certificato. Senta, parliamo, visto che ci mancano poco più di due minuti al termine della trasmissione, parliamo del progetto Gemona, perché c'è stato un primo step, però adesso siamo... Il progetto Gemona aveva due step. La prima parte era l'ambulatorio per la prescrizione di esercizio fisico. La società di cardiologia dello sport, oltre a fare queste azioni di cui ho parlato fino adesso, ha anche lo scopo di promuovere l'attività fisica come terapia. Le linee guida internazionali ci dicono che l'attività fisica è la prima cosa da fare per la prevenzione di tutte le malattie cardiovascolari. Prima cosa da fare, prima di qualsiasi altra cosa. E va data, e va in soggetti soprattutto a rischio, va somministrata secondo dosi e secondo tempi. Abbiamo fatto questo ambulatorio per la prescrizione di esercizio fisico, che dovrebbe essere inaugurato, spero, entro fine anno, però l'attività è già cominciata. E abbiamo dei soggetti che vengono a fare, fanno un test di base, sulla base del test, in collaborazione con l'Università di Udine di Scienze Motorie. Poi gli si fa un programma, che cominciano a fare in ospedale per poche sedute, e poi possono andare a fare nelle palestre esterne. In questo progetto, la seconda parte del progetto, che si è appena cominciata, è l'ambulatorio di medicina sportiva di secondo livello, quello che parlavo prima. Quando il medico sportivo ha trovato una patologia, qualcosa, ordina degli esami. Allo stato attuale il povero atleta, o il padre del povero atleta, deve cominciare a prendere l'appuntamento da una parte per un esame, l'appuntamento dall'altra. E si perde qualcuno che coordini tutti questi esami, e si perde tempo ad andare a fare tutti questi appuntamenti. L'intenzione è quella di fare un centro di secondo livello, dove vanno quelli che hanno avuto un problema, vanno in questo centro dove ci sono degli specialisti, che fanno questi esami e taragano una conclusione per non obbligare questi soggetti ad andare in giro dappertutto. Abbiamo appena cominciato, ma insomma... Pian pianino, ci si arriva, come a Gemona Città dello Sport, mancano 15 secondi, dobbiamo chiudere. Quindi bene anche lì Gemona dello Sport, non Città dello Sport. Sì, è stato scelto Gemona perché c'erano gli spazi e perché è la Città dello Sport. Bene, ringraziamo il dottor Lucio Mos, che ricordiamo essere presidente nazionale dei cardiologi sportivi, e ringraziamo voi amici telespettatori per averci seguito l'appuntamento con la rubrica Femini, Salute e Benessere per giovedì, sempre alla stessa ora. Arrivederci. Femini, Salute e Benessere per giovedì, sempre alla stessa ora. Grazie a tutti.